Ciao Massimo, ma come chissò? Ma come te c'è Matti? Sono il Cornelio, il Vignola, ti mi manda un messaggino a trodete, niente o no, Ranieri? Mi trodete, niente o tanto, domande così, penso di così, cosa ho per fare? Comunque, ti mi domande dei consigli, vieni che ne avrei qualche due, dei buoni, intanto, guarda, è branca, pare lo via, perché zuccheva male e non capiva niente del ballone, quando appunto zuccheva, ti puoi immaginare a dare spogliere il libro di Ibra che su che fumava tre, quattro pacchetti di sigarette al dì, ma non si può, non ti dai un buon esempio, no? E dopo, guarda, devo definire a dare via a zucchiatori che dopo presenta fenomeni, per esempio, guarda, Montari, poche ti ricorda Pirlo, Seedorf, Pidoi e Roberto Luciano che poi era un sol, vieni della Gabriella Comunque, perché è vero che i bocetti avevano in chiaro, ma è prima che li hai letta grandi, allora fa così, Massimo, fa così, scoltami una volta, ti compre il fersino del cinese in blocco, così come l'è, cosa va che costa, con il milione che fai incontrata a tutti per una vicina dei anni, con il milione, che ecco che ti spenditi a giustare i balloni di tutte le squadre, dai, e dopo, dopo sta attento, perché le, 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 dalle migole che si fa il pane, no? Sascha e Rudula non fanno mucho, voglio dire tant'ante altre, ma soprattutto, alla fine, te sei te che tira fuori i soldini, e, e, e tira fuori i soldi per cosa, per, 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 per quattro poli lavori, lei che gira, che, che, e sta attento, perché stasera è vera che ti aggiunghi col Marsiglia, che, che magari nemmeno vanti, ma ti, onestamente, pensi di, che ti avresti già qua, dei membri sette gol, del Barcellona, pensi di essere più forte del Bayern Leverkusen, pensi che su, Massimo, il fersino, il fersino, stavo in telefonia, presidente, la mattina, guarda, inizio milan, tric e trac, eh? Su con la vita, su con la vita, ciao Massimo, fammi il corpo ogni tanto, però, quando la va bene, perché, che, che, l'è proprio vera, cioè, quando l'acqua tocca il corso, si accorge degli amici, no? Ma amici sono sempre chi? Ce l'ho dito, è una vita che tengo a sta po' la squadra, l'idea è gocciare, e, poi, ho detto un'altra roba, mandemmi su, per pensi che, che i panettoni e, fa che tannica di benzina, eh? E anche di gasolio, mi voglio regalare alla Zafira, al turbo diesel, allora, questa manca, eh? C'è, senza impegno. Ciao Massimo.